È una patologia abbastanza rara, adesso è stata classificata tra le patologie rare ed è una patologia che nella maggior parte dei casi diventa cronica e che quindi richiede un trattamento a lungo termine. La terapia si è sempre basata fino adesso sulla terapia steroidea nelle varie forme e questa comporta una serie di effetti collaterali. Ci sono dei nuovi farmaci che sono dei fattori di crescita per i megacariociti che sono le cellule che producono le piastrine. Questi in studi registrativi si sono dimostrati efficaci nel controllare la piastrinopenia anche nei pazienti recidivati e refrattari. Si tratta quindi di un presidio estremamente utile per poter gestire i casi più complessi o i casi cronici come nella maggior parte dei nostri pazienti e quindi è vero che abbiamo finalmente dei nuovi approcci. Ed è anche vero purtroppo che come unica regione in Italia la Sicilia ha soltanto 300 prescrittori, centri sicuramente validi ma che non possono coprire tutto il territorio. Soprattutto considerando che molti dei pazienti piastrinopenici sono stati seguiti fino adesso per storia del paziente, per competenza delle unità operative, dalle matologie, ad esempio quelle universitarie, che non sono state messe nel pool dei centri prescrittori. Chiaramente questo secondo me è un limite nella gestione in quanto si tratta di personale medico che è ovviamente formato, addirittura partecipato agli studi registrativi dei nuovi tipi omimetici e quindi chiaramente si viene a creare un disagio per il paziente che è costretto a lasciare il centro di origine dopo diversi anni che è seguito dal centro stesso per andare in centri di colleghi ovviamente che sono adeguati a seguirlo ma chiaramente con disagio per un cambiamento legato all'assistenza che non sempre viene accettato a bene dal paziente. I pazienti hanno tanta paura del sanguinamento che molto spesso non è giustificata, nel senso che il paziente e molto spesso anche i medici fanno molta attenzione a quelli che sono i livelli delle piastrine ma non sempre questi livelli delle piastrine corrispondono a un rischio di sanguinamento importante. Per cui molto spesso la prima cosa che facciamo è proprio quello di tranquillizzare il paziente sul fatto che molti livelli di piastrine non sono così rischiosi per un rischio di sanguinamento e questo è molto importante per tranquillizzare il paziente perché spesso si tratta di pazienti che hanno una forma cronica di piastrinopenia e quindi sentono questa spada di Damocle del rischio emoragico come una cosa molto importante. In realtà sono pochi i pazienti che hanno veramente questo rischio così elevato di emoragia. È una malattia relativamente frequente che noi vediamo abbastanza spesso nei bambini e che quindi richiede un approccio complesso e che tenga conto di tante cose considerando appunto la fragilità legata all'essere bambini. In questo momento la situazione è in via di evoluzione perché questa prescrivibilità riguarda solo gli adulti è solo da poco che noi abbiamo avuto l'indicazione anche per la popolazione pediatrica e siamo in attesa che la regione decida come dispensare la terapia ai bambini. Con l'occasione ricordo che in Sicilia esistono solo due centri di ematologia pediatrica a Palermo e a Catania quindi immagino che la regione avrà un lavoro semplice da fare però non sappiamo ancora.